musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi con la nuova patch arrivano anche le nuove sfide c'è una sfida segreta nel quadrante B1 come vedete c'è una nuova isola e una nuova sfida dobbiamo raggiungere questo recinto e dobbiamo dare 100 unità di legno per prendere i punti esperienza quindi spacchiamo molto rapidamente le palme che ci sono sull'isoletta è davvero semplicissimo siamo già a 95 andiamo qua raggiungiamo i 110 gliele diamo e ragazzi compagnia dei coralli l'era del legno 25.000 punti esperienza una sfida davvero easy io vi ringrazio per aver guardato questo video ragazzi su twitch sono in live mando solamente l'outro noi ci vediamo in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti.